Ci spostiamo ancora in questo momento ci spostiamo in Sardegna la parola a Loredana Barra dell'Unione Italiana Sport per Tutti che dialoga con Renato Serra che è direttore generale della direzione beni culturali informazione spettacolo e sport per quello che riguarda la regione Sardegna lo diceva Rianna in principio di tutta questa giornata questo appuntamento online l'importanza dello sport l'importanza dello sport anche come inclusione quindi a voi la parola Buonasera a tutte buonasera a tutti buonasera direttore anche se ci siamo visti già un po di un paio d'ore fa Che dire come ritorno all'inizio con le parole della Ministra Rocella siamo qui ad affrontare un tema molto importante il tema dell'emergenza educativa e la Ministra ha detto che è necessario agire in modo multisettoriale e multidimensionale allargando delle reti che possono offrire una cura educativa alle giovani generazioni con dolore ma anche insomma con orgoglio in questo contesto è stato nominato il fatto di cronaca appena successo che ha coinvolto dei ragazzi poco più di ventenni poco più che ventenni e qua si è parlato di rispetto del corpo e il rispetto del corpo richiama ad uno strumento universale che può essere alla portata di tutti che è l'utilizzo del corpo in modo consapevole e cioè lo sport e il movimento non nella loro accezione prestativa ma nel loro valore educativo ne parliamo a lungo nel rapporto CRC e nel paragrafo dedicato dove oltre a ricordare le evidenze scientifiche che dimostrano i benefici dello sport per le persone di minore età non solo per la prevenzione di alcune patologie ma anche come strumento che aiuta a combattere le disuguaglianze sociali che aiuta a socializzare che migliora l'empowerment personale e la vita di chi lo pratica e poi oggi lo sport è entrato in costituzione per la modifica dell'articolo 33 e questo articolo ne riconosce il valore sociale educativo e di promozione di benessere psicofisico e quindi in quanto tale è bisognoso di tutte le pubbliche tuttavia è molto evidente che il riconoscimento di un valore come ben sappiamo non rappresenta la tutela di un diritto in Italia un bambino su 5 di età fra i 6 e i 10 anni in pratica sport nel 30% dei casi le ragioni sono di tipo economico insomma lo sport per molti bambini e bambine è un lusso e poi c'è l'annoso fenomeno dell'abbandono sportivo che se prima aveva un'età spartiacque tra i 14 e i 15 anni ora vede abbassare la soglia fino agli 11 anni Elisa Kruppi parlava di abbandono scolastico bene spesso all'abbandono sportivo viene correlato anche l'abbandono scolastico e quindi qua ritorna l'azione multisettoriale multidimensionale che dovremmo fare per garantire alle giovani generazioni un futuro meno pesante di quello che vediamo ora il fatto dell'abbandono sportivo aumenta in maniera esponenziale il numero dei sedentari dei giovani sedentari che hanno problemi di obesità e di sovrappeso e tra i motivi di questo abbandono è stato evidenziato un eccessivo stress improntato ad un'attività troppo competitiva a volte quindi forse dobbiamo ripensare ad uno sport che deve diventare per tutti e che deve piegarsi oserei dire ai bisogni di tutti e vorrei parlare proprio con il dottor Renato Serra che è direttore generale della direzione generale dei beni culturali informazioni, spettacolo e sport per la regione Sardegna che ci racconterà in che modo le scelte della politica pubblica possono ridurre queste criticità che sono state evidenziate nel rapporto in particolare nel capitolo sport movimento ed educazione Sì, buongiorno, grazie dell'invito e un saluto a tutti coloro che ci stanno vedendo e ci stanno ascoltando Devo fare preliminarmente una serie di piccole premesse per poi entrare nel merito dell'argomento La prima premessa è che nell'ambito dell'articolazione delle competenze che contraddistingue una regione, un'amministrazione regionale la direzione di cui io mi occupo si legge dall'intestazione sotto il mio nome è abbastanza articolata e si occupa di beni culturali, di spettacolo, di sport, di cinema, di informazione e anche di lingua sarda Quindi noi non ci occupiamo in maniera principale dell'istruzione ovvero non ci occupiamo di politiche sociali Il mio assessore in realtà è anche assessore alla pubblica istruzione ma la pubblica istruzione fa riferimento ad un'altra articolazione organizzativa La seconda premessa che vorrei fare è che una parte, ahimè anche cospicua, delle risorse che noi destiniamo allo sport le utilizziamo per aiutare le associazioni sportive a varcare il tirreno Voi sapete che la Sardegna è un'isola e che per andare a fare delle competizioni di tipo dilettantistico perché parliamo di sport dilettantistico e non parliamo di sport professionistico Bisogna prendere l'aereo che talvolta diventa un mezzo irraggiungibile per le società composte dai piccoli e dai più grandi se non c'è una contribuzione da parte dell'amministrazione regionale Detto questo devo dire che, anzi devo fare anche una terza premessa però entrando appunto nel merito del discorso La terza premessa è quella che la Sardegna è regione poco abitata è costituito da tante comunità locali fatte di piccoli comuni scarsamente abitati Se noi eccettuiamo il capoluogo e i principali comuni che magari sono anche capoluogo di provincia o comunque i grandi comuni noi abbiamo tantissimi comuni che sono sotto i mille abitanti tantissimi comuni che sono i 5.000 abitanti Dico questo per dire che ovviamente ogni territorio ha le sue peculiarità e sulla base di queste peculiarità bisogna attivare delle azioni diverse Il nostro assessorato ha ritenuto importante investire nella infrastrutturazione sportiva quindi cercare di dotare tutte le comunità locali di un campo sportivo di una palestra, di un playground all'aperto, di un'area giochi e questo l'ha fatto in parte utilizzando delle risorse che di recente sono state trasferite a tutte le regioni con il PNRR e in parte utilizzando delle risorse comunali l'assessore che crede molto appunto nello sport come strumento per abbattere ogni tipo di emarginazione e ogni tipo di differenza ha voluto negli ultimi due anni aumentare in maniera significativa le risorse destinate all'impiantistica sportiva e in questo anche è stato concorde e unanime tutto il Consiglio regionale Nel 2022 abbiamo avuto 11 milioni di euro destinati all'impiantistica sportiva e quest'anno abbiamo ulteriori risorse anzi poco più perché siamo arrivati intorno ai 15 milioni devo dire che questa non è stata l'unica azione fatta nei confronti dei giovani l'assessore ha costruito un progetto che prima non esisteva che si chiama Giovani Vispi Vispi sta per voucher, iscrizione, sport per l'inclusione voucher, iscrizione, sport per l'inclusione i destinatari sono giovani adolescenti impegnati nell'attività sportiva e che siano residenti in comuni al di sotto dei 30 mila abitanti e con un ISEE non superiore a 12 mila euro è stata fatta un accordo con il Sardegna per attribuire questi voucher che hanno avuto un discreto successo poi devo dire che l'assessore ha anche successivamente ridotto ulteriormente l'assoglia ISEE per voglio dire aumentato l'assoglia ISEE dopo aver soddisfatto quelli con un reddito inferiore ha aumentato l'assoglia ISEE per consentire l'utilizzo di tutte le risorse perché dopo il primo bando erano avanzate delle risorse sostanzialmente diciamo che queste azioni si accompagnano poi a quelle che vengono fatte sia con riferimento al diritto allo studio e sia con riferimento poi alle politiche sociali non so se ci sia qualche chiarimento o qualche curiosità o quant'altro Ovviamente è importante sostenere le famiglie così come ha fatto, ha tentato di fare la regione Sardegna per cui come dicevo prima nell'introduzione lo sport per alcuni diventa un lusso e quindi come stava dicendo lei ovviamente abbassare e innalzare di poco la soglia ISEE per molte famiglie ha rappresentato poter far frequentare il proprio figlio minorenne ad un'attività sportiva con i benefici che l'attività sportiva ha per i minori per me va bene così insomma grazie direttore e allora grazie a Loredana Barra e grazie al direttore generale della direzione beni culturali, informazione, spettacolo e sport della regione Sardegna Renato Serra Grazie a tutti